Musica Nuovo appuntamento con la nostra pagina sportiva, apriamo questa edizione parlando di Arezzo Dopo la rete segnata al Milan Futuro, Camillo Tavernelli è pronto per ripetersi Alla squadra allenata da Bonera ha segnato una rete non del suo repertorio Intanto la squadra si prepara per un trittico di ferro e l'arrivo del Pescara non necessita di ulteriori motivazioni Ha timbrato il cartellino tre volte negli ultimi tempi e le reti di Camillo Tavernelli iniziano ad avere un target ben definito Aveva cominciato con la prudezza, inutile, ai fini del risultato contro la Ternana Alla rete da uomo d'aria con il Sestri Levante che fruttrò tre punti e ora questa con il Milan Secondo un cliché che non è del suo repertorio Siamo con Camillo Tavernelli, uno dei volti nuovi del Arezzo, arrivato in Estremis Intanto è stato un approccio positivo Sì, diciamo di sì, c'è avuto un po' di ambientamento Adesso mi sto trovando molto bene con i compagni, con la squadra e con tutto lo staff Perciò puntiamo sempre a fare meglio e a lavorare tutti insieme E allora cosa è successo domenica con il Milan dove tra l'altro hai segnato un gol che non fa parte del tuo repertorio abituale In settimana scherzavo con i compagni che in un anno generalmente un gol di testa lo faccio Non so come ma generalmente lo faccio È successo che bisogna cercare di trovare più continuità nelle prestazioni Andiamo a volte a sprazzi e bisogna cercare in sé come stiamo facendo in settimana Di trovare continuità nel dare più valore al gioco in maniera continua Inizia il trittico della verità La capolista è poi una partita che ad Arezzo non ha bisogno di essere presentata E poi la vieto sentendo Sì, diciamo che ogni partita ha il suo valore Noi pensiamo partita per partita Adesso domenica incontreremo la capolista Sarà una partita difficilissima Stiamo preparando come tale Poi tireremo le somme tra un mesetto Però adesso noi pensiamo partita per partita E ogni partita vale tre punti Perciò prepareremo partita per partita Si avvicina per l'appunto il grande giorno E a Pescara è scattata la caccia al biglietto per Arezzo 800 I tagliandi spediti in Abruzzo L'arrivo della capolista Pescara scuoto Un ambiente che dopo le ultime prestazioni Sembra avere perso il giusto mordente Domenica alle 15 Il colpo d'occhio del comunale Sarà quello dei giorni migliori Tra l'altro nella città abruzzese Sono stati spediti 800 tagliandi E già ieri sera ne erano stati venduti 250 Da battere il premato delle presenze Raggiunto il comunale contro la Ternana Il 29 settembre scorso allo stadio c'erano 4430 spettatori Intanto la mobilitazione pescarese massima La squadra di Baldini ha riacceso la passione di una città Che vanta una grande tradizione nel pallone nazionale Probabile che il settore ospiti sarà tutto esaurito Come successe proprio contro la Ternana Dalle notizie che rimbalzano dall'Adriatico Gli 800 biglietti rischiano di essere insufficienti Ma di più non possono essere dati Proprio nella partita contro la Ternana Venne stabilito il record d'affluenza Adesso non resterà che vedere come sarà la risposta Domenica prossima Se il città di Arezzo riuscirà a battere soprattutto se stesso Gli Amaranto ospitano la capolista E la gara offre un indubbio richiamo Per tutti i tifosi di Fede Amaranto Veniamo adesso ad una notizia relativa alla Serie D Il Dipartimento Interregionale della FIGC Lega Nazionale Dilettanti ha emesso un comunicato Che anticipa la riduzione dell'organico della Serie D Con l'obiettivo di ripristinare quanto prima Il totale di 162 squadre contro le 168 delle ultime stagioni Ecco quanto reso noto nella giornata di ieri Quindi si procederà a ripescaggi Solo se il numero di squadre regolarmente iscritte Sarà inferiore alla soglia delle 162 E sarà una dodicesima giornata Con alcune novità sul luogo e data Della partita per Montevarchi e Terra Nuova Traiana Il Montevarchi al sabato E il Terra Nuova Traiana al Brilliperi di domenica È il sunto di quello che sarà la dodicesima di campionato Per queste due squadre che se la vedranno I rosso-blu con il Foligno e i biancorossi con l'Orvietana Per la squadra di Mister Lelli L'anticipo della gara di Foligno è dato dalla concomitanza domenica Di un grosso evento nel territorio La squadra Umbra ha infatti chiesto di anticipare al sabato Alle 14.30 Anticipo concordato con i Valdarnesi Terra Nuova Traiana e Orvietana Andranno a giocarsela al Brilliperi Per l'indisponibilità del Matteini Nell'impianto terranovese è stata effettuata la risemina del terreno di gioco Che necessita di alcuni giorni di riposo Si tornerà a giocare a Terra Nuova nella partita interna Col Poggi Bonzi del primo dicembre Saranno due match dal valore diverso Per le squadre della provincia di Arezzo Da una parte il Montevarchi Proverà a prendersi la terza vittoria consecutiva Che vorrebbe dire metà salvezza in tasca E aggancio alla zona playoff Per il Terra Nuova Traiana una vittoria vorrebbe dire invece tornare a fare punti E togliersi dalla zona playout Campione sul campo e nel cuore Ciccio Graziani è stato uno dei premiati Della quindicesima edizione del premio sportivo nazionale La Clessidra Nel corso della cerimonia Graziani si è commosso Ricordando Paolo Rossi Anche Ciccio Graziani è premiato qua con la Clessidra Così dicono Il tempo non passa No no il tempo passa E' proprio la Clessidra ti fa capire Se la capovolge ogni tanto che il tempo passa Per cui Vediamo siamo in tanti Mi fa piacere rivedere anche alcuni amici Il tempo passa ma non si cancellano le imprese Il tempo passa Per fortuna che passa Perché se non passa è peggio E poi ci sono i ricordi in questo momento Le imprese compiute I flop Le delusioni I grandi entusiasmi La vita è fatta di alti e bassi lo sappiamo Alla tua sinistra Ciebolini ha mai fatto contrasti con lui? No con lui no Con lui no non l'ho mai fatti Però Massimo Quando avevo la responsabilità di alcune academy negli Stati Uniti con la Roma Me lo sono portato dietro Allora mi diceva la Roma Ascolta ciccio va bene tutto Ma ci possiamo portare uno juventino in giro noi? E gli ho detto ragazzi ma se c'è la qualità Se il ragazzo merita perché no? Che c'entra la sua storia calcistica? E allora mi hanno detto vai portalo non ti preoccupare Gli ho fatto mettere la tuta, la maglia Il giubbotto della Roma E lo prendevamo in giro poi a Massimo Colpo grosso della Castiglionese che spugna il terreno di Sinalunga nella partita valida Per gli ottavi di Coppa Italia di eccellenza Falomi e Ribeiro Montero sono stati marcatori dei Viola Nel finale la rete dell'ex Redi ha riacceso le speranze per la formazione allenata da Marco Benedetti Ma i ragazzi di Fani hanno tenuto botta conquistando la qualificazione e l'accesso ai quarti di finale Cambiamo sport parlando adesso di trail perché è ai nastri di partenza All'edizione 2024 del trail di Lignano la corsa valida come ultima prova del Grand Prix 2024 Partirà dalla sede della polisportiva Policiano organizzatrice della manifestazione La partenza è fissata per le 9.30 di domenica 17 novembre Poi spazio ai 13 chilometri di corsa all'insegna di un percorso suggestivo Torna il trail di Lignano organizzato dall'Unione Polisportiva Policiano Con il patrocinio del Comune di Arezzo e il CSI Aretino La corsa valida come ultima prova del Grand Prix 2024 partirà dalla sede della polisportiva Policiano Per poi inoltrarsi negli uliveti e nelle colline che sovrastano il paese Fino a raggiungere il castello di Policiano Poi gli atleti passeranno vicino alla chiesa di Sant'Andrea Pigli Per imboccare il sentiero di Via dei Fagiani Prima di affrontare la lunga discesa che riporta alla sede della polisportiva In termini di risultati tutto può ancora succedere Con Andrea Serluca in testa tallonato da Stefano Bettarelli e Giovanni Ciambriello Mentre in campo femminile Giulia Sadocchi non dovrebbe avere problemi Per il secondo e terzo posto invece se la dovranno ancora giocare Valentina Mattesini e Noemi Trippi Negli ampi spazi della polisportiva alle 10.45 si disputeranno anche le gare del settore giovanile Con le società della provincia che si giocheranno il 27esimo Memorial Gabriele Annetti Torniamo a parlare di calcio Si interrompe il rapporto tra la SD Cortona Camucia Calcio e l'allenatore della prima squadra Domenico Avantario La società della Valdichiana ha comunicato tramite una nota stampa di aver sollevato dall'incarico il mister Al tecnico si legge nel comunicato il ringraziamento per il lavoro svolto in questi difficili mesi Con grande impegno, costanza ed edizione augurandogli le migliori fortune professionali Nelle prossime ore sarà comunicato il nome del nuovo allenatore E chiudiamo con la pallacanestro Questi quattro riconoscimenti che confermano la sba tra le migliori società del centro Italia Anche la realtà cestistica retina era presente alla festa della pallacanestro toscana Che si è svolta a Villa Guicciardini a Cantagallo Alla presenza del presidente federale nazionale Giovanni Petrucci La società presieduta da Mauro Castelli è stata premiata per il settore giovanile Under 15 Rosini Gold, Under 14 Elite e Under 13 Conferita una targa al tecnico Umberto Vezzosi Per aver salvato la vita ad un ragazzo colto da malori durante una partita Ed è tutto per questa edizione del nostro TG Sport A tutti voi grazie per averci seguito Buon proseguimento in compagnia di Teletruria Grazie a tutti